Salve a tutti ragazzi, bentornati, io sono Jnm e oggi siamo tornati su Minecraft nei minigames per fare le bad walls in compagnia di Giorgio e di Francesco che noi per comunità lo chiameremo Andonio. Buonasera a tutti, devo salutare a casa? E niente. E niente, adesso ci andiamo a fare le triples e di sicuro vinceremo. Uno che va verso i diamanti. Ragazzi sono in partita, già ci stiamo organizzando. Gialli, cazzarola. E per questo io dicevo sbudiamoci perché loro sono gialli. Gialli stanno, torna indietro. Attenzione ai gialli. Giorgio, Giorgio, attento. U è caduto. Ma cazzarola, mi hanno ucciso. No ma cosa, pure con lo sfudo ero. Ti morisse la femmina. Guarda o no. Vai. Va bene, va bene, rompetelo, rompetelo. Ma si è fatto un derretto. Rompetelo. Lo avete gotto? No, a me mi ha preso uno da dietro, ho appena fatto l'esplosione e uno da dietro, ma c'è un... Ok, volante. Uh! Gli acqua! Gli acqua! Gli acqua! Vaffanculo, bacio. Attenzione alla pinnetti, ho piazzato la pinnetti. Ma dove cazzo ero avanti? L'insertrappe non lo avete messo! L'insertrappe! L'insertrappe! No, scusate, io avevo detto di mettere un insertrappe, c'ho il giallo. Cosa è l'insertrappe? L'insertrappe è Giorgio, l'avevo detto, che vai ai diamanti, aiuto! E son morto! Stava andata in Giorgio. E' un problema! Vaffanculo! Vai! C'è la pinnetti! Spacca a mano se no! Bravo! Vai, vai, spacca il nobito di Elson! Vai, spacca... Oh! Eccoli arrivano! Ciao! Rip Giorgio! E invece... E invece è Rip Giorgio! E invece è uno lo ha mandato giù! Gigi Giorgio Vabbè dai dai hai fatto un buon lavoro Dai hai fatto un buon lavoro Però alleanza eh Ma non si fa team Eh noi facciamo team Allora io metto un minimo di blocchi Giusto per E poi io già me ne vado dai miei diamantucci Uh già c'è il mio carissimo amico bianco che ci vuole andare Vedremo un po' chi la vincerà Io sono già di solito Già Già è un parolone Uh Il blu ha spaccato il letto al bianco Io le so pure dette che ci uscite a reti una Eh non venire anche da Eh capo dove si Questa la capite è buona che ci uscite a maffare Eh capo Ok l'ho fatto fuori Ho fatto fuori il blu Vieni qua C'ho la spada in iron La mia prossima vittima è il giallo Eh col cazzo Ciao giallo Sì sì copriti il tuo bel letto Ah tu sei che ho ucciso Tu sei No No Ah no Antonio Ciao Antonio Ciao Antonio È buito Fermati Ciao No dove vai? Ti amm... No 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 È caduto Ciao Però rimani con lo spettatore dai Mettiamo anche tipo una gara tra noi 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 tre Vediamo chi è più forte alle belle Uh Adesso Prima che mi spaccano il letto E fu così Che io ho perso il letto In un secondo le ultime parole famose e mi sa che sta arrivando eccolo, si 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 vieni vieni si si, vieni vieni ah si? come fa a fa? si si, viacce viacce oh non c'è qui eh? si ciao ciao hackerava, lo sapevo che hackerava questo qui difatti è morto, cioè è morto, l'hanno eliminato ma come facevo a fare il fondo è così veloce è appunto, è questo è un hack perfetto io sono pronto io sto andando al red regia, prego, musica epica dai vai provi, non ci provare, non ci provare rimani là dietro aspetta qua ok in questo momento a lesbica no e lo sapevo che mi servivano mi devo potenziare gli smeraldi mi servono per fortuna che li ho nascosti teoricamente non sono neanche disponibile due ehi salve ehi salve eh non ci picchiamo eh Giorgio uh attenda red il red vuole venirci allora uh Giorgio ha perso il letto ci significa che il grosso lo ha quasi scoperta Giorgio fammi un favore tienilo impegnato il grosso i Cashflow ehi salve ehi salve 6 il grosso il grosso il grosso ehi salve agli salve un culo, però il letto gliel'ho fatto adesso lo devo ammazzare perché ovviamente se gli stungo il letto lo devo uccidere si, si è suicidato si è suicidato, gg per me gg per me ragazzi, per questo video è tutto, ringrazio Francesco e Giorgio per la partecipazione, di sicuro non mancheranno altri video con loro però, per oggi il tempo è scaduto quindi, ci dobbiamo fermare io ringrazio tutta la visione mi piace questo video, iscrivetevi e commentate un po' sotto, scrivete in qualsiasi cosa e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao hashtag forzandonio forzandonio hashtag